we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e anche oggi ragazzi tutte le ultime news e sono davvero tante di fortnite delle ultime 24 ore sono racchiuse in questi pochi minuti di video si parla davvero di tutto ragazzi cosa succederà l'evento il galactus le nuove skin nfl quello che hanno aggiunto nei file di gioco insomma ragazzi ho una tonnellata di roba da dirvi per questo voglio subito ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi e non poteva che essere un leggero riallacciamento al video di ieri la l'anteprima di quella che sarà la nuova icona della stagione 5 di fortnite allora per tutti quelli che mi hanno detto come fai a chiamare il cavaliere il mandoriano io non sono un fan di star wars non conosco niente di star wars e quindi per me era un cavaliere ora so che è un mandoriano quindi ragazzi ci sarà sicuramente un qualcosa dedicato a star wars come vedete potrebbe essere la skin del livello 100 e molto probabilmente dovrebbe avere degli stili personalizzati quindi un po come è successo nelle skin precedenti delle varie season altre due skin le vediamo dietro e quindi qualcosa sappiamo di già abbiamo però bellissimo questo modello in 3d che ci potrebbe far capire come si presenterà appunto la skin in game devo dire che è fatta in una maniera davvero eccezionale e quindi per tutti gli appassionati della saga di star wars un'ottima occasione per ottenere il pass battaglia rieve riassunto di nuovo ragazzi il pass battaglia vi ricordo potrà essere anche acquistato con un abbonamento mensile da 11 euro e 99 indicativamente 12 che vi daranno 1000 v bucks al mese e anche delle skin dedicate non è ovviamente obbligatorio potete comunque prendere anche il pass battaglia normale da 950 v bucks e siamo già passati al secondo argomento il nuovo arrivo delle skin del set delle nfl ragazzi oggi dovrebbero essere già nello shop questo video è registrato prima del cambio shop delle due del mattino e sono davvero tantissime molto rapidamente vi faccio vedere se non le avete ancora viste un video ragazzi che ci racchiude questa enormità di skin che secondo me sono un pochettino money grabber dai diciamocela ragazzi che cosa serviva a fare così tante altre skin io mi auguro di non iniziare la live fra poco e scoprire che queste skin sono completamente nuove nel senso sono così tante nuove e vanno ad inserirsi nel set dei dei giocatori nfl tra l'altro hanno rimesso anche hanno messo anche una fucilata di arbitri in più non lo so non condivido tanto questa cosa arrivano anche due emot arriva anche il backpack che potrebbe che può essere modificato in base al logo della vostra squadra preferita oppure semplicemente utilizzando l'icona dell'ama noi in realtà sì abbiamo magari qualche informazione sull'nfl ma non è proprio il nostro sport nazionale quindi carine niente da dire dai non possiamo lamentarci un'altra cosa che hanno aggiunto e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi invece perché qua comincia ad arrivare roba abbastanza interessante come avete visto sono usciti in questi giorni nello shop i bundle quelli dedicati ad esempio a nike h30 quindi lo sciatore canadese con le motte con il piccone la mazza da golf e compagnia bella insomma gli outfit che utilizzano gli streamer più famosi del mondo per quanto riguarda fortnite dovrebbe arrivarne un altro tra poco ed è quello di pizzo per chi non lo conoscesse anche lui youtuber streamer milioni di visual parliamo ovviamente di gente estera che appunto otterrà entro indicativamente metà dicembre dicono il suo nuovo bundle il pizzo locker non so se si legge così per chi non lo sapesse ve lo faccio vedere in quest'altra immagine che ovviamente non sono riuscito a mettere non è un problema questo è il set che usa lui quindi il pesce secco con come si dice la pittura da militare il backpack con tutti i suoi caghini lì il piccone che dovrebbe essere la piccozza il deltaplano mimetico e qualche emote dedicata in realtà le emote non saranno disponibili nel bundle ma potrete ottenere l'outfit piccone deltaplano tutto in un colpo solo quindi davvero un'occasione per ottenere tutto e anche la skin ovviamente ma andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi fantastico l'avevo messa qua del prossimo argomento di oggi perché guardate un pochettino quanto cavolo è grande il galactus devo dire che il fatto che stia emergendo dalle acque ci fa capire quanto sia mastodontica questo quanto sia mastodontico questo galactus sappiamo e sto per farvi vedere anche la skin di galactus presente già nei file di gioco scoperta nelle ultime ore del pomeriggio di ieri come vi ricordo ragazzi abbiamo iniziato la season con un puntino nel cielo questo puntino si è avvicinato sempre di più era il galactus che è stato visibile fino a qualche settimana fa poi è completamente sparito dopo la patch 14.60 invece ha ricominciato a riemergere dal mare e probabilmente lo troveremo quasi completamente emerso prima dell'evento del primo dicembre guardate per farvi capire da questa panoramica quanto è grande rispetto alle montagne ed eccola qua ragazzi la skin del galactus ce l'ho anche in game da farvela vedere mi dispiace che gli abbiano fatto fare questo balletto però il galactus indicativamente dovrebbe essere proprio così come vedete la rarità della skin è epica io mi dispiace non ce la faccio a vedere il deviratore di mondi che si dimena come se fosse una signorina alla prima volta in discoteca però molto molto carino ugualmente devo dire che al suo perché a parte le corna muschiate che ti rovinano un pochettino probabilmente la mira non è affatto male ma andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché queste sono altre cose interessanti dato che ieri nelle ultime ore del pomeriggio sono state aggiunte nei file di gioco nelle stringhe alcuni elementi che abbiamo già visto allo zero point quindi l'evento che ha concluso il capitolo 1 di fortnite in season x principalmente sono degli effetti grafici quindi non si sa in realtà se vengono se andranno a riprenderli o se semplicemente faranno parte di un continuo per quanto riguarda l'evento la cosa veramente però interessante è che sono stati aggiunti anche molti effetti relativi al dogus quindi il mecha chiamatelo un po' come vi pare il robottone quello che vi ricordo è partito a cannone dopo aver dopo aver killato il kattus con la spada che era presente nella tilted town che in realtà era il centro e nessuno se lo sarebbe mai aspettato è poi partito in cielo potrebbero richiamarlo per aiutarci contro il galactus non lo sappiamo però prima di chiudere ragazzi guardate quanti effetti volevo farvi vedere rapidamente l'ultimo tweet di fortnite che pubblica ufficialmente questa frase avremmo abbastanza cellule gamma e fanno vedere l'immagine dell'autobus della battaglia con dentro queste cose di energia il galactus arriva l'uno dicembre 2020 non sappiamo ragazzi che cavolo voglia dire con precisione però quale news stanno arrivando a fiordi io vi ringrazio tanto per avere guardato comunque questo video mi raccomando non vi dimenticate di lasciare un like importante ragazzi daie commentate se volete con qualsiasi cosa mi aiutate così a far salire il video nei consigliati noi ci vediamo alle 8 in live su twitch ciao 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 ciao